Dicono che siano cinque le fasi del mondo. Beh, mi piacerebbe aggiungerne un'altra. Vendetta. Come sappiamo, Cruella de Vil è molto villanista. In questo film, possiamo vedere come si è diventata il villano che conosciamo oggi. Ci siamo! La storia è completamente originale, in un periodo diverso tempo, in le lati 70s. Hai quel luccichio negli occhi. Quale luccichio? Una delle cose più divertenti da esplorare è la creatività. La storia è molto bella a quello che fa, la designazione. Voglio fare arte e voglio combinar guai. Il personaggio è molto divertente e molto intoxicante. Quando mettiamo questo bianco bianco e bianco, questo meraviglioso make-up, e questi costumi unico, ti senti come Cruella de Vil. I villani sono sempre i divertenti. Mi sta tornando in mente che un lato di te è un guai esterno. A presto!